No, se fossi io lo mandassi già domani. Ah sì, già domani? Sì, sì, sì. Nenzo allenatore. Ah, neanche? Non manco allenatore. Giocano solo i giocatori. Quello che vogliono fa, fanno. Buongiorno a tutti, buonasera. Sconfitta 2-1 contro il Verona oggi. Dispiace, dispiace. Buonasera ragazzi. Cosa abbiamo fatto oggi? Schifo. Sconfitta che fa male. Su tre settimane abbiamo perso già sei punti ragazzi. Quest'anno credo che è finita. Non si gioca bene. Dispiace molto perché con l'arrivo di Sarri si aspettava di vedere un altro gioco. Un gioco che non vedevamo con Allegri. Abbiamo aspettato, abbiamo dato tempo a Maurizio Sarri. Niente, siamo a febbraio e non si vede. Non ha cambiato niente, anzi più peggio. Meglio con Allegri che perlomeno perdiamo qualche punto. Con Sacchi mi dispiace. Sacchi mi dispiace. Sacchi mi dispiace. Siamo indietro, molto indietro. Se giochiamo così, quest'anno tutto si perde ragazzi. Non c'è grinta, non c'è passione, non c'è voglia. Non ci sono passaggi. Male oggi. Non so cosa succede ma si gioca male, 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 male. Non lo so perché, non lo so. Il centrocampo non va bene. Oggi tutti hanno giocato male, tutti. Sei più deluso o arrabbiato oggi? Arrabbiato e deluso anche. Così non si gioca così. Peccato ragazzi. Come si va avanti così? Io vorrei dire anche chapeau al Verona. Perché ha fatto una bellissima partita. Anche il primo tempo ci stava, stavano pressando molto. Però non abbiamo giocato né il primo né il secondo. Il Verona ha meritato la partita. Credevo che era la Juve, io credevo, che giocava così. La Juve non gioca. E il Verona ha giocato bene e ha meritato. Per te più colpa del giocatore, dei giocatori o anche della società che ha scelto Sarri? Di tutto. Credevo che Sarri ti portava qualche cosa di più. Ma alla fine, siamo a febbraio e non c'è cambiamento. Si gioca più male. Lasciamo perdere. Meglio Allegri allora. Se dobbiamo giocare così, lascia Allegri che si vince qualche cosa. Io sono rimasto molto deluso di Ramsey. Non ha portato niente. Molto deluso. Ma hanno comprato giocatori, non lo so, gratuiti. Non hanno pagato niente. Non hanno portato la Juve. Perché la differenza non la fanno. Pianici? Oggi lascia Pianici, Alessandro. Le manda a casa quelli due. Ma tutta la squadra, no? Sono loro. Mi dispiace, oggi mi dispiace. Tutti male. Tutti male. L'unico che si salva? Sempre Ronaldo. Quando tocca qualche cosa. Oggi non hanno avuto fortuna Ronaldo. Sono molto dispiaciuto perché questo ragazzo lì, 35 anni, ha fatto un gol meraviglioso, però supporto della squadra a zero. Anche Di Bala è entrato, niente. Non ha fatto anche a lui la differenza. Se domani l'Inter, il Gilderby, siamo a pari punti, la Lazio può stare a un punto indietro. Lotta a tre. Lotta a due saranno, no? A tre. Se non si gioca così la Juve, se non cambia mente l'Italia, la società speriamo che le sveglia domani a questi giocatori e a questi allenatori. Allora, infatti, l'ultima domanda, importantissima, perché non è nello stile Juve, però, Sarri finisce la stagione con noi? No, se fossi io lo mandassi già domani. Ah sì, già domani? Sì, sì, sì. Nenso allenatore. Ah, neanche? Nenso allenatore. Giocano solo i giocatori. Quello che vogliono va a fare. Forse è meglio. Buffon, ci mette a Buffon come allenatore. Su queste parole, grazie a voi, siamo molti nervositi perché non è la sconfitta che fa male, però è il modo in cui. Molto male oggi e dispiace molto. Arrivederci comunque, forza Juve. Siamo delusi, sono troppo deluso oggi. Te l'ho detto. Credevo che il Verona era la Juve. Credevo che il Verona era la Juve, ma non era la Juve il Verona. Ciao, ciao. Ciao, ciao ragazzi. Buonasera. Ciao. Deluso, troppo deluso. Ciao. 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 Grazie.